Buongiorno. Buongiorno a tutti i convenuti al ventinovesimo congresso dei medici internisti. Più di quattromila. Un eroe più, un eroe meno. Perché per me sono eroi della scienza. E sono i medici per elezione rappresentanti il simbolo della scienza medica, secondo me. Le specializzazioni sono tutte benvenute, ma il medico internista ha qualcosa a che fare anche con l'anima dell'inferno. Alla nostra sensibilità più nascosta e meno manifesta. Alla nostra salute che ha soltanto i sintomi per dialogare con loro. La mia gratitudine è straordinaria. Non solo come produttore di Elisir, ma come appassionato di sfuggi sulla storia della medicina. E so che se sei una parte dei medici che dà la chiesa identifica della sua storia con la vita della medicina. Quindi sono i medici internisti. Buon congresso. Scusate se non sono con voi, ma sono fattenuto appunto dal parlare di voi ai consigli.